Mi ha ridato vita questo sorriso e il poter mangiare tranquillamente, senza dubbio, è impagabile, impagabile. E ho conosciuto questa clinica nei social, poi mi sono informato, alcuni amici, e poi parlando ho preso la decisione di partire. Il mio dentista mi ha consigliato di fare altri lavori, ma non voleva farmi un'altra tipologia di lavoro solo perché mi comunicava che non poteva farlo, in quanto mi mancava l'osso e dovevo fare un percorso particolare, d'innesto lungo, il che mi aveva un po' demoralizzato. Però vedendo queste recensioni sul turismo dentale qua da Palmas mi ha un po' ridato vita, ho seguito dei commenti, ho letto dei giudizi, ho contattato persone con cui mi sono confrontato personalmente e mi hanno dato tutti notizie positive, quindi mi ha fatto decidere di intraprendere questo percorso. All'inizio ho avuto un po' di titumanza con i dialoghi, un po' non sapevo come comportarmi anch'io. Mentre il secondo step io sono andato giù pari, mi sono proprio aperto e domande, quindi alle mie domande ricevevo delle risposte e facevo anche le battute, quindi facevo sorridere tutti i medici, i chirurghi, i protesisti, tra cui i Vasili, che all'inizio lo consideravo un po' freddo, ma sinceramente quando gli parlavo io sentiva la mia S e sentiva tutte le battute che gli facevo, ci spacca da ridere tutte le volte che ci incontriamo. Beh, devo dire che tutti i miei amici, conoscenti, anche una parte dei familiari erano un po' titubanti all'inizio, perché tutti mi dicevano ma come vai così lontano e io li rassicuravo anche perché ho detto guardate, ho parlato con diverse persone in Italia, c'è un centro assistenza in Italia dove io mi sono anche recato e posso dire che non ci sono alcun tipo di problemi, ti danno assistenza, ti danno un riscontro e quindi li ho rassicurati inizialmente. Poi vedendomi il secondo step in videochiamata così sorridente, così contento, anche loro hanno detto no, no Claudio hai fatto bene, mi ha ridato vita questo sorriso e il poter mangiare tranquillamente senza dubbio è impagabile, impagabile. Ho fatto tanti amicisti anche qua ovviamente con gli italiani e un consiglio che posso dare bisogna venire qua positivi e cercare delle compagnie positive, bisogna venire positivi e non ci sono problemi assolutamente, qua sono professionali al massimo, cioè non c'è da aver dubbi, assolutamente. Assolutamente, il sorriso vale 10, io sono una persona solare, sorridente, a me piace rapportarmi, dialogare con le persone, conoscere sempre gente nuove, quindi se ti presenti con un sorriso a bocca chiusa mi blocca, mi blocca tantissimo e quindi non riesco nemmeno a confrontarmi a dialogare chiaramente, ma poter esprimere la mia idea con un bel sorriso e sorridere in compagnia, ridere e scherzare per me è vitale, ti dà energia, ti dà positività e ti dà voglia di andare avanti e fare sempre cose nuove e migliorarsi.